Allora mister, questa trasferta è più interessante per la Coppa in sé o perché affrontiamo un prossimo avversario nel campionato? Per tutto, per tutto è un avversario che troviamo anche in campionato, è una prova buona per vedere dove siamo, come siamo, è un campo importante del futbol italiano, una squadra che sta in serie B, è la serie dove noi giocamo e per tutto questo è importante, anche vogliamo vincere per fare il prossimo passo nella Coppa Italia, vogliamo giocare anche con le squadre, le serie A, però il primo passo è domani e questo primo passo lo dobbiamo fare tutti insieme, come sempre, con molta concentrazione, con molta disciplina e come abbiamo giocato con la luce. Partiamo, mister, partiamo anche da chi mangia, chi non è disponibile e chi mangia la turma? Assolutamente sono non disponibili Shitton, Madonna e Gianetti, il resto è Rivas, Rivas sta infortunato, questi quattro giocatori che sono infortunati molti tempi fa e tutti gli altri siamo avvenuti molto bene e anche Miloš e Cicci Soler sono a mia disposizione per giocare. Ecco il quartiere nuovo, potrebbe partire da inizio se lo fa questo 2 mila, non lo so? Vediamo, domani vediamo chi gioca, però la prima partita ho visto a Timoti è possibile, perché domani vogliamo vedere a Cicci Soler o decidere chi gioca la prima partita in Paressa. Dunque per adesso non avete deciso come priorità chi è il primo quartiere, c'è un primo quartiere? No, sono tutte e due la stessa idea, sono, tutte e due hanno l'impossibilità di giocare, Cicci Soler abbiamo visto poco in livello di tiro, però lo controllo contro l'avversario che non sono forti e domani è una partita dove puoi vedere di più di Cicci Soler e dopo tutte e due possono avere l'impossibilità di giocare. Come tutti i giocatori nella squadra abbiamo 25 giocatori, tutti possono giocare, di uno a 25, tutti che sono qui possono giocare. Per quanto riguarda, l'altra volta ho tolto la partita, avevi detto che Barbaro non era ancora, diciamo, in forma, è stato statico e adesso, per cui il Perugia preferirà domani, domani non si sia tanto più abatto alla difesa del Perugia. Io non voglio dire adesso chi gioca domani, chi non gioca domani, vediamo, abbiamo due arrendimenti oggi pomeriggio e domani mattina e vediamo chi gioca dopo. Però, e Barbaro, io ho detto anche che Barbaro ha avuto un problema tre, quattro giorni prima della partita e per questo è stato ottimo per la partita, però ho avuto la fiducia in Barbaro e si va avendo la fiducia in Barbaro, come a tutti i giocatori. e questa settimana si è allenato bene, ha fatto tutto, non ho visto problema a nessuno nell'allenamento e penso che domani, anche con guarda in maglia, sta a disposizione da raggiungere. Ecco mister, aspetti qualche, c'è ancora qualche settore della tua squadra da realizzare? Se sì, dove, oppure no, su qualche punto della situazione su questo fronte, dal tuo punto di vista? Per rifassare? Sì. C'è una domanda per il direttore sportivo, noi parliamo perché io voglio parlare di più perché sul settore dove lavora lui, abbiamo parlato dopo la partita, io ho la fiducia in tutti i giocatori che abbiamo nella squadra, anche dei giocatori come Nura e Sadiq, hanno la fiducia di mister e tutti altri che hanno venuto, che sono della stagione scorsa, abbiamo una squadra unita, buona, buoni ragazzi che si allenano bene, tutti che vogliono dare tutto e veramente una partita sono benvenuti per rispondere. Per questo però vediamo, naturalmente vogliamo prendere giocatori che possono aiutare la squadra, in che posizione vi adeguiamo, un po' con la defensa centrale, possibilmente un terzino, un centrocampo, l'attaccante penso che non ho bisogno di più. però vediamo che nei prossimi dieci giorni possiamo fare qualche cosa, io penso che se farà anche qualche cosa. Posto? C'è una cosa sull'avversale, una cosa proprio sul specifico dal punto di vista tecnico che avrei studiato e ho detto che ho già così finito, le squadre giocano con un sistema 3-5-2, una squadra molto offensiva, con due attenzioni di destra e sinistra che sono molto offensive, anche in centrocampo, gioca un Tadej che gioca in centrocampo defensivo, è un giocatore che ha sempre giocato offensivamente, questo significa che vogliono giocare fuoco calcio, che vogliono giocare offensivamente, sarà una partita difficile per noi, però io penso che noi abbiamo la sufficiente qualità per vincere l'interno di tutta luce. Hai sicuramente voglia di vincere l'interno di tutta l'altra volta, ma tutti rispondendo la preparazione, ci sono delle possibilità abbastanza fiate per fare questi eventuali 120 minuti? Si, si, si. Ma in vista di mettere l'interno di tutta l'atleta? Io dico, no, 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 c'è un problema nessuno, se stiamo nella preparazione, se si gioca a 120 minuti, siamo preparati, sarà un buon allenamento. Anche per il campionato, per questo non vedo la possibilità di giocare a 120 minuti, non la vedo male. Se dobbiamo giocare a 120, siamo preparati, sono sicuro che possiamo vincere anche a 120 minuti. Lo più importante è che la squadra fa meglio che l'ultima partita e che di partita a partita puoi fare meglio. Grazie mister. Grazie. Grazie. Grazie.